A proposito di buone pratiche, anzi di energie rinnovabili, un progetto che questa volta coinvolge l'assessorato all'ambiente della Regione ed Estra Energia. Riparte per il quinto anno consecutivo Energicamente a scuola di energie rinnovabili il progetto educativo sul risparmio energetico e le energie pulite rivolto alle scuole promosso da Estra in collaborazione con Lega Ambiente e giunti progetti educativi. La partecipazione Energicamente è completamente gratuita, coinvolge oltre 6.000 ragazzi delle classi quinte delle scuole primarie e classi prima, seconda e terza delle scuole secondarie dell'Italia centrale, Toscana, Marche e Abruzzo, oltre alle loro rispettive famiglie. Si tratta di 250 percorsi didattici, 18 laboratori teatrali dal titolo Energia del Teatro, svolti nelle classi con l'obiettivo di approfondire insieme ai ragazzi i temi dell'energia in modo divertente e coinvolgente. È un supporto che loro ritengono davvero particolarmente significativo perché li aiuta a innescare l'esperienza del mondo del lavoro, l'esperienza del mondo ambientalista nell'attività scolastica, dando un supporto anche dal punto di vista didattico e portando tematiche importanti come quelle ambientali, come quelle del risparmio energetico, in un modo anche adatto all'età che questi nostri uomini del futuro hanno. Credo che sia un percorso virtuoso, che sono felice sia prima di tutto voluto e sostenuto da attori fondamentali, quali appunto un grande gestore comestra, legambiente giunti per i progetti educativi e vedo che di anno in anno sono iniziative che crescono anche nell'interesse e nell'offerta didattica, per cui la regione toscana non può che essere felice di esserci.